140 rose rosse lanciate nel mare, quel mare dove hanno trovato la morte 140 persone innocenti. È stato questo il momento più toccante della commemorazione del disastro del Mobi Prince, avvenuto il 10 aprile del 1991 a Livorno. Sono passati 30 anni da quella sera di primavera, quando alle 22.25 il traghetto della Mobi entrò in collesione con l'Agi Pabruzzo, petroliera della SNAM a qualche miglia dalla costa labronica. Livampò l'incendio e fu l'inferno, morirono in 140 tra passeggeri ed equipaggio del Mobi. E a Livorno, ancora una volta, i familiari delle vittime e le istituzioni toscane hanno chiesto verità e giustizia, mai convinti delle ricostruzioni fatte finora sull'incidente. Perché non prendiamoci in giro, non è certo né la nebbia che arriva e che va, né la partita che ha distratto coloro che guidavano la nave, qui c'è qualcosa di molto più profondo e c'è, se non altro, da valutare le responsabilità di chi non ha attivato i soccorsi. Perché la Commissione del 2018 ha acclarato che per almeno 13-14 ore vi sono stati segni di vita su quella nave e in 13-14 ore, con i mezzi di ora, come con quelli di 30 anni fa, si doveva fare molto di più per salvare le vite umane. La Regione Toscana ha realizzato in una stanza della Biblioteca Pietro Lopoldo del Consiglio regionale un armadio della memoria su tre grandi tragedie toscane.